Spettacoli, musica, cene e aperitivi in attesa del mercatino di domenica 17 settembre in Via Fiorentina. È così partita la Maratona del Calci Tallarezzo Fiere Congressi. Dal 13 inizia la Kermesse del Calci Teniscena, ormai è arrivato al decimo anno e tutte le sere varia dal canto alla esibizione della corrida e sabato abbiamo un evento particolare che il Polvarone fa la centesima esibizione. La domenica fuori dal centro affari abbiamo il mercatino e lunedì la novità che quest'anno abbiamo cercato di creare una serata con tutte le associazioni del volontariato per stare insieme, per conoscersi e per capire la nostra forza. E quest'anno ci porta dalle ore 19 la botteghina di Gragnone e viene con la periscena. Il ricavato sarà destinato al servizio scudo di cure domiciliari e oncologiche. Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio che tutti gli anni ci impegna per oltre 340 mila euro all'anno perciò è chiaro che gli sforzi prioritariamente vanno destinati lì.